e ora questa bella intervista a roberta morise che abbiamo tratto dalla rivista vero e leggiamo qualche settimana fa i riflettori della cronaca rosa erano puntattati su roberta morise dopo che a sorpresa aveva detto addio al compagno potito starace pochi giorni fa invece vero ha scoperto che tra la presentatrice calabrese e il tennista esplosa la passione è la stessa conduttrice di asi driver il programma sui motori che conduce su rai 1 ad ammettere che tra loro è tornato il sereno i due ngl i ultimi giorni sono stati avvistati insieme agli internazionali di tennis ancora più affettati rispetto a prima della rottura roberta morise ci fai un bilancio di asi driver sono molto soddisfatta grazie al programma sto scoprendo l'italia è un'esperienza entusiasmante oltre a visitare i territori o la possibilità di testare le novità del mercato automobilistico roberta morise il tuo rapporto con auto e motori sono la mia passione che condivido con mia sorella mariana il nostro papa che oggi non c'è più ce la trasmessa e per caso del destino questa trasmissione la vedevo con mio padre ma ammetto di essere un'automobilista indisciplinata una di quelle che prende spesso una di quelle che prende spesso le multe lo pago subito però e questo è il motivo di lite con mia mamma lina sei sempre stata molto legata alla tua famiglia ho un legame meraviglioso con mia madre anche se spesso è un po conflittuale perché siamo identiche caratterialmente ci sentiamo al telefono un'infinità di volte è un punto di riferimento imprescindibile da quattro anni sono zia di giovanni un bimbo stupendo papa è scomparso per un incidente in bicicletta quando avevo 18 anni sono legata ai nonni e agli zii appena torno a ciro marina in calabria facciamo delle riunioni di famiglia d'estate trascorro un mese con loro al mare roberta morse sei testimonial del cuore dello sport di cosa si tratta è un progetto incentrato su prevenzione educazione e promozione della salute cardiologica di atto da in plea e altcare e dall'assessorato allo sport del comune di roma insomma a sabino zaba porteremo i punti c'è cup in venti ville e in diversi centri sportivi della capitale per offrire agli sportivi nella capitale per offrire agli sport di un servizio di monitoraggio e diffondere consapevolezza e cultura della prevenzione cardiologica ringrazio i medici che si stanno impegnando per la buona riuscita di questa iniziativa roberta morise nella carriera avanti tre edizione dei migliori anni ho sempre sognato di essere protagonista di uno show in prima serata mi ha dato una carica incredibile sarà per sempre il più bel ricordo della mia carriera ho avuto l'onore di duellare con luccio della amedeo minghi tutto cotugno e tanti altri ti manca la prima serata sì tornare protagonista di un varietà resta il mio obiettivo principale mi sento portata per questo genere televisivo spero mi sia data un'opportunità hai una forma fisica strepitosa come la mantieni per anni ho frequentato palestre e praticato sport ma da un po di tempo ho impersi nel trainer giorgio ceci che mi ha consigliato di praticare un nuovo metodo di preparazione fisica giorgio è anche esperto in nutrizioni e mi ha dato indispensabili consigli alimentari stralcio di intervista a roberta morise davvero